Sei venuto fin qua, tu sei venuto fin qua, per vedervi in cerco la iera Dove essere molto sentita eh Ma perché giri sempre qua scusa? Réasi Sì! 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 Lei è sicura signorina di scappare dalle mie grinfie? Le voglio dimostrare il mio amore! Il mio amore infinito! Tu mi turbi! Eccola! Ah! Dividiamo solo a guardare! Ok! Sei un voyeur! Praticamente! Io userò l'account di Max! Così! Tu non sto chiaro il formone! Sei minima! Minima! E niente! Direi che possiamo... O Dio! Sta qui! Oh lì! Sta qui! Se la prendo! Oh! Maranne! Ehehehe! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Ma vieni! Ah ha ha ha! Non mi viene da sussare la cammetta! Stai anche a sbagliare di scoprire! Ehehehe! 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 Cosa è? Crizi? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Ma pensa a te! Che cazzo è andata? Che cazzo è andata? Cosa? Che cazzo è andata? Che cazzo è andata? Che cazzo è andata? che cretina sta salendo la fa adesso si ma anche tu gli dici sta salendo adesso non stava salendo madonna io non ti devo ascoltare se ancora non hai fatto iscriviti al canale del pelato del tubo e clicca la campanella delle notifiche per non perditi i prossimi video a presto